Forse gli strumenti finanziari che tracceranno le linee principali negli equilibri dell'ente potrebbero essere definiti entro fine maggio. La scadenza di massima l'ha fornita l'assessore Danilo Giordano che la scorsa settimana è stato sentito dalla Commissione Bilancio. L'assessore ha fornito i primi dati generali sia sul consuntivo 2020 che sul bilancio di previsione 2021. Anche il DUP dovrebbe essere chiuso a breve, spiega il presidente della Commissione Valeria Caci. Giordano ha risposto alla convocazione su richiesta dei componenti della Commissione che stanno cercando di avere elementi utili da verificare e approfondire. Già d'inizio anno l'assessore aveva riferito che il tentativo sarebbe stato di anticipare i tempi di presentazione rispetto al passato. Gli atti finanziari con in testa consuntivo e bilancio di previsione, se venissero rispettate le scadenze di massima, potrebbero arrivare alla prova del Consiglio Comunale anche prima della pausa estiva. Pare che l'assessore tecnici del settore siano in costante contatto con i dirigenti delle varie ripartizioni per avere tutti i numeri aggiornati da inserire negli strumenti finanziari. Il presidente Caci e gli altri componenti di maggioranza della Commissione, Romina Morselli e Salvatore Incardona, sembrano piuttosto convinti davanti all'operato dell'assessore centrista e dei tecnici del settore coordinati dalla dirigente Alberto De Petro. Da quanto emerge non ci sono particolari rischi per le casse del municipio, anche se la situazione generale non è chiaramente così florida. In realtà sembrava che consuntivo e bilancio potessero essere ufficializzati anche prima, ma i tempi si sono allungati. La Giunta, di recente, ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche e quello delle alienazioni, a loro volta propedeutici al bilancio. In commissione è stata sentita inoltre il dirigente del settore ambiente, Grazia Cosentino. Il piano economico finanziario per il servizio rifiuti pare sia in fase avanzata, anche se la nuova normativa tende a centralizzare le procedure attraverso la SRR, che negli scorsi mesi aveva affidato un'attività di consulenza ad una società specializzata, così da affiancare la burocrazia dei comuni dell'ambito. Lo scorso anno il documento non arrivò in consiglio comunale. Sia l'assessore Giordano che il dirigente Cosentino dovrebbero essere nuovamente sentiti in commissione proprio in settimana.